Lo sport diventa strumento per promuovere uno stile di vita sano ma anche di integrazione sociale, soprattutto in quei quartieri dove si vivono particolari disagi. È lo spirito che anima il progetto sport di tutti i quartieri, ufficialmente avviato oggi al Palamatierno, alla presenza anche del coach della Nazionale Italiana di Basket Femminile Andrea Capobianco. L'iniziativa è promossa dal Ministro per lo Sport attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione anche con Sport e Salute S.p.a. Il progetto ha la durata di due anni e intende favorire l'alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del terzo settore. Il coordinamento dell'iniziativa Sport di tutti i quartieri a Salerno-Palasilvestri è a cura dell'associazione sportiva Ippo Basket Salerno in qualità di capofila e garantisce la promozione attraverso l'attività fisica gratuita, la pratica sportiva, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psicofisico degli individui. Nasce a Materno perché il nostro presidio sta qui a Materno con la scuola e quindi si rivolge all'utenza cittadina, non solo di Materno, per offrire dei servizi totalmente gratuiti a ragazzi, concorsi di basket, volley, scherma, baskin, attività per donne con la zumba al mattino, attività per over 65 con ginnastica dolce e danze popolari. Nel periodo estivo ci sarà anche la possibilità di fare un camp per residenti, quindi diciamo 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana e una volta a settimana faremo anche attività di doposcuola, quindi le attività saranno lunghe, dureranno per circa 2 anni, con lo spirito però di avvicinarle allo sport, far capire che lo sport è aggregazione, è un posto dove i ragazzi si possono mettere alla prova, possono sbagliare, essere liberi di sbagliare, e crescere attraverso gli errori e anche la capacità di capire che possono modificare il mondo che gli sta attorno. A supporto dell'iniziativa tra i vari partner, anche Perform Lab, associazione di promozione sociale. Lo sport come base fondamentale per il benessere, insieme alla formazione, noi ci crediamo tanto in qualità di ente di formazione, come crescita, con i valori dello sport, molto spesso utilizziamo lo sport come metafora anche nella nostra formazione, per insegnare ai nostri ragazzi l'impegno, l'allenamento e il sacrificio per poter raggiungere dei risultati. Quindi l'impegno di Perform in questo progetto, di Perform Lab, la nostra associazione, è quello di dare una grossa mano alle persone, non soltanto sotto l'aspetto sportivo, che è quello che si incarica anche nell'ippo basket, ma anche quello psicologico-mentale di forza verso il raggiungimento di ogni obiettivo. L'evento coinvolgerà numerosi studenti delle scuole medie e superiori della città di Salerno, proponendo un momento di forte aggregazione e animazione territoriale. Una fetta del bando è destinata anche alla riqualificazione degli spazi. Oltre attività gratuite, anche il presidio, in questo caso il palazzetto, quindi sicuramente l'ippo basket avrà previsto una miglioria al palazzetto, all'impianto. Questo è il motivo per cui, quando c'è dietro un progetto importante, una gestione di un soggetto che sa fare rete, sa fare progetti di carattere nazionale come questo, ricordiamo che questo è il secondo progetto approvato a Salerno del bando quartieri e è importantissimo. Un progetto che coinvolge soprattutto i ragazzi del quartiere Materno, le scuole, è una cosa per lo sport molto importante. Quindi tra il Palla Silvestri e soprattutto la scuola Materno ci saranno attività sia sportive che scolastiche. Grazie. 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 Grazie.